Non lo so, francamente, cosa possa rivendicare il professor Conte, che devo dire, insomma, è un bravissimo indossatore di giacche e di fazzolettini, ma non credo che possa rivendicare alcunché il professor Conte, però si comporta bene, eccetera, però insomma ci vuole una strategia, non si può rivendicare, tu non puoi andare lì e rivendicare un posto e nel tuo paese fai una cosa come hai fatto contro l'ILVA, perché non ti crede nessuno.